Un libro come questo, edito dalla Giorgio Tesi, editrice di Pistoia, curato dalla mia amica e collega Lucia Gai, era un libro molto atteso, accompagnato da una campagna fotografica che a me è sembrata straordinaria, di grande efficacia, di grande vicinanza al vero, che è tutto quello che è giusto chiedere a un libro come questo che affronta un'opera come questa. Mancava alla bibliografia storico-artistica italiana e segnatamente toscana. Di cosa parla questo libro? Parla di quel mastodonte d'argento che i pistoiesi ben conoscono, che si trova all'interno del Duomo di San Zeno, a Pistoia. Generazioni di orafi, dal Trecento fino a Brunelleschi, hanno lavorato a questa immane impresa. Grazie a tutti.